Che mi hai fatto percibare? Senta, scusi, io non sono sua madre, sono un cronista, canale 8, televisione, vede? Davvero? Sì. Accidenti, ma è un lavoro che pagano bene? Sì, non c'è male, è anche un lavoro interessante. E lei che lavoro fa, scusi? Beh, è sempre il solito, procuratore distrettuale. Oh, ma davvero? Sì, 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 giuro di dire la cosa, tutta la cosa, come si chiama, come si chiama. La verità, e dov'era al momento del terremoto? Oh, ma lo sai che stai rompendo? Ma non lo so, ma ho riso tanto. E come mai si trova in questo stato? Ah, perché mi hanno trasferito qui dal Bissuri. No, no, non ci siamo partiti, volevo dire... C'è anche quello che ti dico, mamma? No, 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 mi scusi, cosa stava facendo quando è arrivato il terremoto? Ah, questo! Beh, sai, ero andato in ufficio, no, mamma? Il problema della droga in California va risolto e alla svelta, perché non ne arriva abbastanza. E questo può ingenerare disordini. Ah, ciao, Al, come stai? Bene, capo, e tu? Bene, bene. Cos'è che dobbiamo fare oggi? Giornata piena piena, Al. Ah. E il primo processo è fra un quarto d'ora. Allora, visto che sarà una giornata dura, prepariamoci bene. Hai un po' di droga? Ah, adesso guardo, aspetta. Su, che è tardi. No, 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 neanche uno spinello. La donna delle polizie mi frega tutta la droga che c'è questa. Aspetta, qui devo avere un campione come prova processuale. Eccolo, ho trovato. Bob, ci credi o non ci credi, hai miracoli. Polvere d'angelo. Ah, stupendo. Del tuo capo, che facciamo tardi? Arrivo. Ce la fumiamo subito, eh? Aspetta, aspetta, te l'accento. Ah, grazie. Buonissimo. Buongiorno. Agente Greg. Buongiorno, capo. Salute Greg, come va? Non bene. Beh, oggi che facciamo? Per ora stiamo fumando un po' di polvere d'angelo. Sì? Polvere d'angelo? Guarda. Fai una tirata. È una roba buona, è una prova processuale. Non sapevo che fumassi la polvere d'angelo. Vuole un po' di poppers, capo. Poppers? Guarda qua, comincio io, comincio io. Oh, il mio cuore. Oh, i miei capelli. Cos'è, stai male? No, no, ma è stato così bene, oggi vinciamo tutti i processi. Ecco le coppie degli atti che mi ha chiesto, capo. Oh, la nostra superlativa segretaria. Siete tanto cari, cosa fate oggi? Abbiamo slipato un po' per sé. E' fumato polvere d'angelo. Posso dare una tirata? Ma certo, carina. Viva un po' di estasi. Estasi? Un piccico a me, un piccico a tesoro, magari anche due. Mi piace l'estasi, mi fa venire voglia di fare l'amore. Il giudice, c'è il giudice. Buongiorno, signor giudice. Buongiorno, giudice. Buongiorno, giudice. Già stifosa, ho appena dato a due drogati 35 anni e di galera e sono ancora depresso. Perché ridete? Ma cosa avete, eh? Abbiamo un po' di estasi. E un po' di polvere d'angelo. Ne vuole un po'. Potevate chiamarmi, no? Ragazzi, vi va un po' di fungo messico? Certo. L'ho appena sequestrato. Questo è lavorare!